Pronto o pronta per andare a dormire? Ecco, ci abbiamo fatto un sacco di cose Sono veramente distrutto E penso proprio pure tu, pure tu Quindi andiamo a dormire Ci sistemiamo un pochino, vediamo un po' cosa fare Che ne dici? Che ne dici? Che ne dici? Che ne dici? Allora, prima però voglio sapere tutto, 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 tutto Quello che hai fatto oggi Perché mi hai detto solo, solo poche cose Quindi devo sapere tutto quello che hai fatto Poi magari ti racconto anche quello che ho fatto io Quello che ho fatto io Quello che ho fatto io Dai, quindi così fatto oggi? Ho capito, dai, è bello però Cioè, secondo me sarà venuto pazzesco Ok, sì, ok, va bene A me ti sei divertito Ho divertito a farlo E lo so che è stancante, sì Però Però, però, però Poi hai fatto qualcos'altro? Qualcos'altro? No, dai Più o meno questo Va bene, va bene Io oggi in sostanza Ho lavorato Infatti non so se si può vedere Ero pure al sole Infatti sono tipo Tutto abbronzato Non si vedrà nulla E in faccia Poco o niente Però sulle spalle Sulla schiena Sono proprio Rosso Sono diventata E poi Ho lavorato tanto Pure al computer Eh, già Ho proprio Lavorato tanto Pure al computer Quindi Può sembrare una cavolata Ma sono veramente Distrutto Pure io Eh, va bene, dai Quindi Ci meritiamo Proprio Una bella dormita Io ho tolto la maglietta Perché faceva Veramente caldo Cioè in sti giorni Voglio Morire Perché fa Troppo caldo Eh Se vuoi Prima di andare a letto Sempre O mentre andiamo O c'è la sopra Lo so di giri tu Ti posso fare Un piccolo Massaggio Alla faccia Magari al corpo Non lo so Va bene Faccio adesso Un po' di massaggi Al viso In modo che si rilassa Che ne dici? Sì Va bene, dai Poi io sto Sudando Da morire Allora Allora Comincio Comincio Col farti Qualche Carezza Qualche Carezza Se sentisi Qualche Rumorino Un po' così In sottofondo Ho acceso Il condizionatore Di là Per rinfrescare Un po' la situazione Solo che Bisogna aspettare E a volte Fa un po' di rumore Quindi Non lo so Nel caso Senti Qualcosina Il condizionatore Almeno Ci rinfreschiamo Un po' Ma le mie condizioni Come sempre Un po' così Allora Quindi qua C'è il tuo viso Ho il tuo viso Il tuo viso Il tuo viso Il tuo viso Comincio Con fare Qualche Massaggio Così Circolare Ai lati Qua Del viso Quindi Così Massaggi Circolare Lati Del viso In modo che Tiriamo La pelle Indietro Così Facciamo così Facciamo così Tiriamo La pelle Indietro Tiriamo La pelle Così Ok Mamma mia Che caldo Facciamo anche Dei massaggi Circolare Sulla fronte Sulla fronte Sulla fronte Poi Chiudi gli occhi Passiamo anche Sopra gli occhi Sopra gli occhi Il naso qua in mezzo E la bocca Il mento sotto Tutto qua sotto Tutto qua sotto Tutto qua sotto Ok Quindi Appunto Un po' di Massaggi Così Ok Sì Ho un po' Le labbra Scripolate Io Solo che Devo andare a comprare Il burro cacao Perché l'ho finito Perciò Purtroppo È così Poi Non lo so Vuoi un po' D'acqua Ho preso Ho preso La mia borraccia L'ho lavata L'ho riempita Cinque secondi fa Dentro sì ovviamente Ci ho messo Acqua fresca Perché se no Schiattiamo La mia borraccia Riempita La mia borraccia L'ho Ok dai, allora io te la do, dimmi tu se vuoi, poi se la userai o no, vai tu, poi la cosa solo, solo, solo per te, ok? Ok, allora. Ok, poi non lo so, mi era venuta in mente anche un'altra cosa che potevamo fare prima di andare, prima poi di stenderci nel letto, magari poi dopo sì, accendiamo la tv, cerchiamo un po' su Netflix se c'è qualcosa. Che sonno, che sonno, non lo so, preferisci vedere un film o una serie tv? Ok, noi cercheremo qualcuno o qualcuno di bella, sì, qualcuno o qualcuno di bella. Devo stare fermo con queste mani che faccio troppo casino. Allora una cosa che mi era venuta in mente potessi fare adesso, adesso, ma sto bene così, cioè mi si vede bene, non lo so, è pettinarti un po'. E ho preso due pettini, uno fatto così. E poi, e poi, e poi, e poi. Pure una spazzola. Quindi inizieremo facendo un po' di brush. Brush, 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 brush. Non troppo vicino, non troppo vicino, tipo così. Brush, 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 perché è gigantesca questa spazzola, mamma mia. Brush, brush, sui capelli, quindi faccio così. Tengo un po' ferma la testa sui capelli. Ok. Questo è lo spazzolo un po' tutti i capelli. Cerco di togliere un po' i nodi che ci sono. Qua magari in basso, pure un po' di più di qua. Quindi, così, verso l'altro. Così. 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 Mamma mia che caldo che fa, dobbiamo abbassare un po' là perché fa troppo caldo, così continuiamo un po' con questa, un po' così, c'è veramente gigantesca sta spazzola, va bene. Poi andiamo un pochino con lui, però questa parte di qua preferirei fare un po' così, 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 un po' così. Sì, sono un po' tutto distrutto, quindi un po' così, un po' così, ok? Tutto ok? Così, così, così. Dai qua, la situazione mi sembra a posto già migliore della mia perché vabbè, ma sì dai mi sembra già tutto a posto. Perciò adesso, non lo so, un pozzoletto. Ok, adesso faccio un po' di... Dovrei fare proprio la barba mi sa Barba ai baffetti perché sembra un barbone Però la faccio poi dopo Di certo non adesso Di certo non adesso Quindi così Mamma mia che sonno veramente Ma che ore sono? Le 3.49 Spero si sia letto Mamma mia ma perché abbiamo fatto così tardi Cosa ci vanno a provare? Io non lo so Riprendo l'acqua Ok Questa qua Adesso te la metto proprio ai piedi del letto Così basta solo allungare la mano Beh così E la prezzetta Perché sì E poi compro Ok quindi Non lo so Vuoi dirmi qualcos'altro Raccontarmi qualcos'altro Prima di andare a dormire Intanto faccio un po' così Prima di andare a dormire Ok Ok Allora Leggerei anche qualcosino Solo che libricini corti non ne ho E poi non so se il mio genere di libri di gusti può piacere anche a te Non lo so Si sente qualcosa? Secondo me molto basso Perciò nulla Mi sa che adesso ci tocca andare Chiudo questi, li metto via Poi dopo poso anche le spazzole Perciò adesso inizia già a chiudere gli occhi A chiudere gli occhi E io sono qua per augurarti la buonanotte 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 Mi raccomando Vai un bellissimo sogno Noi poi ci rivediamo domani mattina Che domani mattina possiamo prenderci la giornata per noi Facciamo una giornata E facciamo una giornata relax Rilassante appunto Senza fare troppe cose Perché oggi è piangere la parata tanto Perciò buonanotte 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 Un bacio Quindi ci vediamo domani mattina Bye bye Buonanotte 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 Grazie.